Fazze skin, galleria forme, volumi negativi, brimi interno e modalità scura sono solo alcune delle novità introdotte nella nuova versione dello slicer di casa Prusa. Buongiorno e benvenuto sul mio canale, io sono Giorgio e oggi parliamo della nuova versione di Prusa Slicer, la 2.4.0. Al momento sto utilizzando la Alpha 2 che non è una versione definitiva in quanto il programma viene ancora aggiornato risolvendo problemi e bug, ma tra poco uscirà la versione definitiva quindi stiamo pronti. Le novità principali sono veramente tantissime, il changelog pubblicato da Prusa è lunghissimo ed è probabilmente uno degli aggiornamenti più grossi di sempre. Per questo ho deciso di riassumervi le novità più interessanti e commentarvele insieme in questo video, ma sul mio sito web trovi il changelog completo e tradotto in italiano, il link è in descrizione o in alto a destra. Troverai tutte le novità spiegate per filo e per segno, anche le più tecniche. Inoltre ci tengo molto a ringraziare Francesco Vetere, un mio iscritto, che ha commentato avvisandomi della tempestiva uscita della nuova versione di Prusa Slicer e quindi grazie a lui se sto registrando questo video. Grazie Francesco! Ed eccoci qua nella nuova versione di Prusa Slicer. La prima cosa che notiamo è che le schede in alto delle impostazioni sono state graficamente migliorate, quindi sono maggiormente visibili, ma questo non ci interessa. Vediamo la prima novità, è ora possibile tagliare un oggetto semplicemente spostandolo al di sotto del piano di stampa. Infatti vediamo che il contorno si evidenza di bianco per darci un riferimento più preciso sul piano di taglio. Per fare modifiche rapide è molto più intuitivo e ci evita di utilizzare lo strumento di taglio ogni volta, che però rimane lo strumento per fare tagli precisi. Una novità assoluta è la galleria forme. Cliccando con il tasto destro sul piano e poi su aggiungi forma, qui oltre alle solite forme in fondo troviamo galleria, galleri. La apriamo e in questa schermata ci viene detto di scegliere una forma. Ne troviamo alcune già preimpostate, come ad esempio il simbolo del riciclaggio del PTG. Ma possiamo aggiungere qualsiasi file 3D in modo da averlo sempre a portata di mano. Secondo me è una funzione molto utile e ne capiamo maggiormente il senso introducendo la prossima novità, ovvero i volumi negativi. La funzione volume negativo ci permette di sottrarre una parte di geometria da un oggetto. La stessa cosa era fattibile usando i modificatori, ma ora è ancora più semplice e veloce perché si fa in un clic. Infatti aggiungendo un cubo o un qualsiasi file, clicco con il tasto destro su di esso, scelgo aggiungi un volume negativo e tra le opzioni apro la galleria e scelgo il simbolo di riciclo. La forma viene aggiunta come volume negativo. Lo posiziono al centro dell'oggetto in modo che lo intersechi e vediamo che facendo lo slicing sul fondo viene incassato il nostro simbolo. Quindi la combinazione della galleria e dei volumi negativi ci permette di fare delle personalizzazioni in modo semplice e veloce. Parlando di semplificazioni, c'è una nuova funzione che permette di semplificare la mesh senza dover ricorrere ad altri software. Cosa significa decimare o semplificare la mesh? Come vedi, se abbiamo un oggetto molto complicato, ovvero formato da migliaia o milioni di triangoli, possiamo ridurne la quantità di una certa percentuale, ottenendo una mesh meno definita ma più leggera. Una figata è che se riduciamo tantissimo i triangoli, otterremo un oggetto poligonale o low poly, in inglese. Cose che andavano fatte con altri programmi, ora si possono fare direttamente in Prusa Slicer. Arriviamo ora alla funzione Fuzzy Skin. Questa funzione è stata copiata da Cura, io non la conoscevo ma è una figata perché ci permette di creare una texture particolare e ruvida sullo strato esterno dell'oggetto o anche su tutti gli strati, a nostro piacimento, creando dei piccoli artefatti. Può essere usata per creare grip su impugnature come ad esempio il manico della GoPro. Parliamo ora di quello che per gli utenti è il tallone d'Achille di Prusa Slicer. I supporti Molti utenti si lamentano della poca personalizzazione che si ha sui supporti e sul fatto che utilizzino più materiale rispetto ad esempio a Cura. Bene, con questa nuova versione sono state modificate parecchie cose riguardo ai supporti. È stato aggiunto un nuovo campo nella scheda impostazioni. Ora possiamo scegliere lo stile del supporto tra griglia e snag. La griglia è il vecchio stile di supporti, mentre snag, che in italiano significa aderente, crea supporti come quelli di cura, ovvero che non sbordano eccessivamente perché sono aderenti alla forma dell'oggetto e ne seguono le curve. Sempre riguardo ai supporti è stato aggiunto un altro parametro, il Support Material Bottom Contact Distance, ovvero la distanza di contatto inferiore dei supporti, che ci permette di impostare una distanza tra la parte superiore di un oggetto e la parte inferiore del supporto. In precedenza si poteva impostare solo la distanza di contatto superiore, ora è possibile differenziarle. Inoltre hanno aggiunto la possibilità di generare gli strati di interfaccia non solo in alto, ma anche in basso, rendendo la rimozione più facile e lasciando la superficie più pulita. Vorrei farvi capire per bene qual è la differenza tra la griglia e lo snag per quanto riguarda i supporti, quindi andiamo a impostare griglia e come possiamo vedere abbiamo due problemi. Il primo è che la griglia di supporto sborda eccessivamente al di fuori del nostro oggetto e una conseguenza di questo fatto, lo possiamo vedere qua, vengono create queste colonne di supporto che sono inutili, semplicemente per supportare la parte di griglia che sbalza fuori, che ovviamente non può essere stampata nel vuoto, quindi ha bisogno di questa colonna di supporto che però è inutile. Impostiamo quindi lo stile snag e come possiamo vedere già dai primi strati le nostre colonne in eccesso vengono eliminate, il supporto viene creato solo all'interno del foro e vediamo proprio che segue la geometria. Se ci spostiamo verso l'alto, anche qui il nostro supporto non sborderà più fuori dalla circonferenza, ma la seguirà. E questo impatta tantissimo, soprattutto sui tempi di stampa, perché vediamo che con lo stile snag siamo a 7 ore e 11 minuti, se torniamo su modalità griglia, e vediamo che con lo stile griglia il tempo di stampa sale a 8 ore e 55, quindi una notevole differenza. Un'altra novità degna di nota è la pittura multimateriale, ovviamente questo strumento funziona bene con il sistema MMU2 che permette di stampare 5 colori con un gello. Il team di Prusa ha ascoltato la richiesta degli utenti che chiedevano uno strumento di pittura come quello per disegnare i supporti e le cuciture direttamente sull'oggetto e hanno quindi creato questa funzione che permette di assegnare un colore su una parte dell'oggetto semplicemente cliccandoci sopra. In automatico Prusa riconosce le varie parti e imposta i cambi di filamento in modo estremamente semplice rispetto ad una volta, in cui bisognava lavorare con oggetti multiparti ed andare ad assegnare un colore ad ognuna di esse. Dato che non possiedo ancora il sistema MMU2 non ho mai avuto modo di sperimentare questa funzione, ma da buon maker ci sto lavorando, sto studiando come funziona e spero di poterne parlare anche su questo canale. Prusa ha dichiarato che nella Alpha 2 sono state fatte molte ottimizzazioni sulla generazione del G-Code, hanno aggiunto il supporto alle accelerazioni di Marlin 2, inoltre dicono che la velocità di slicing è stata migliorata da 2 fino a 4 volte in base al nostro processore, quindi ho effettuato un benchmark tra le due versioni per vedere se è veramente così. A sinistra vedete la 2.3.3, a destra la nuova 2.4. Le ho dati in pasto l'STL più pesante che ho e con la stessa impostazione ho avviato lo slicing. Vediamo che la 2.3 genera un po' prima l'anteprima, ma la 2.4 conclude lo slicing con largo anticipo. Quindi effettivamente hanno migliorato. Nell'utilizzo normale arrivare 30 secondi prima non ci cambia assolutamente nulla, ma tecnicamente è un passo avanti. Procedo ora con una carrellata di novità. Ovviamente in questo video non posso parlare nello specifico di ogni modifica perché altrimenti diventa una conferenza e un video di un'ora. In occasione dell'uscita ufficiale potremmo organizzare una live in cui ci confrontiamo. Fatemi sapere con un commento se siete interessati e in che modalità potremmo farlo. Ovviamente ricordati di iscriverti al canale e condividere il video. Grazie. Quindi andando avanti è stato aggiornato il brim aggiungendo la possibilità di generare il brim sia all'esterno che all'interno dell'oggetto aumentando ancora di più la superficie a contatto del piano. Soprattutto con oggetti con pareti molto sottili come questo. Hanno migliorato lo scuro di protezione o draft shield aggiungendo nuove personalizzazioni. Un'altra cosa super interessante che aspettavo da tempo è una miglioria nella stampa sequenziale. La stampa sequenziale ci permette di stampare più oggetti in sequenza quindi prima uno poi l'altro e così via. Hanno aggiunto i confini all'oggetto mi spiego meglio. Come vedete attorno all'oggetto c'è un confine che diventa rosso nel caso in cui i due confini di due oggetti si intersecano e il confine rappresenta l'ingombro del nostro estrusore che è possibile ovviamente andare ad impostare nelle impostazioni di stampa e questo permetterà di posizionare gli oggetti in modo che l'estrusore non vada a collidere con gli oggetti stampati in precedenza. Ora vengono anche riconosciuti i cartelli o signe come li chiama Pruse in inglese e quindi andando ad aggiungere una targhetta con sopra una scritta in automatico Pruse riconosce la scritta ed imposterà a quell'altezza il cambio colore. Ovviamente verremo avvisati con un pop-up e potremo scegliere se attivare o no questa funzione. Molto interessante anche il fatto che abbiano aggiunto la modalità scura però solo su Windows quindi andando nella scheda configurazione preferenze andiamo nella sezione GUI troveremo Windows Dark Mode abilitandole cliccando ok verrà ricaricata l'interfaccia grafica e avremo l'interfaccia scura. Hanno aggiunto anche il consiglio del giorno quindi ogni giorno ci uscirà un pop-up che ci dà un consiglio su come utilizzare alcune funzioni è una cosa carina. Una cosa molto interessante invece è che hanno aggiunto la finestra di salvataggio quando si chiude il programma quindi ci verrà chiesto se vogliamo salvare o no il progetto. Molto interessante che adesso si possono anche comparare i vari profili e per farlo dovremo andare nel menu in alto cliccare su finestra e dal menu che si apre in fondo troviamo la voce Compare Preset o Compara Profili e aprendola ci verrà mostrato questo menu dove abbiamo le nostre tendine con i nostri profili scegliamo i vari profili ci viene mostrato se il profilo corrisponde uguale all'altro che abbiamo selezionato nel caso in cui siano diversi ci verrà mostrata una sezione con tutti i parametri che differiscono l'uno dall'altro e verrà evidenzato anche il valore. Un'ultima chicca che vi lascio e che ho appreso ascoltando la live di presentazione del programma ufficiale di Prusa Joseph Prusa ha dichiarato di voler introdurre la generazione di scritte testuali direttamente all'interno di Prusa Slicer quindi sarà possibile generare del testo e andare a effettuare tutte le varie combinazioni quindi volume negativo oppure cambio colore direttamente in Prusa Slicer quindi non so se capite la direzione verso cui sta andando soprattutto Prusa Slicer. Gli Slicer stanno diventando a tutti gli effetti programmi molto complicati che ci danno tantissima libertà di personalizzazione direttamente all'interno del programma e questo secondo me è molto figo da una parte ma dall'altra parte io amavo tantissimo e questo penso che l'abbiate capito Prusa Slicer proprio per la sua semplicità quindi per come erano spiegati bene tutti i parametri per come erano divisi in varie sezioni per come era facile andare a reperire ogni parametro mentre ora si sta complicando parecchio i parametri diventano sempre di più non so se avete visto ma andando nella sezione dei supporti prima i parametri erano relativamente pochi rispetto ad altri Slicer adesso sono diventati veramente tanti quindi bisogna iniziare proprio a approfondire maggiormente l'utilizzo dello Slicer e dei vari parametri perché diventa complicato per fortuna Prusa ci mette a disposizione la scelta tra modalità semplice avanzata ed esperto quindi per chi inizia magari sceglie la modalità semplice o avanzata e si risparmia parecchi grattacapi dovuti a impostare parametri sbagliati essenzialmente che è quello che succede all'inizio ho iniziato a stampare con cura c'erano veramente troppi parametri non li conoscevo tutti non sapevo cosa volessero dire e che cosa cambiavano nella stampa quindi alla fine pacciugavo e facevo solo cavolate quindi grazie di avermi ascoltato spero che questo video ti sia piaciuto ti ricordo ancora di iscriverti al canale condividere e lasciare un mi piace ciao e alla prossima ciao 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 ciao